Vacanze estive finite per gli studenti del Messinese. Soltanto alcune scuole, come l'Istituto Comprensivo Marconi di Sant'Agata di Militello, hanno infatti scelto per il rientro il 14 settembre, data prevista dal calendario regionale, decidendo piuttosto di anticiparla. Tra gli alunni già tornati in aula ci sono quelli dell'Istituto Tecnico-Tecnologico Maiorana di Milazzo e dell'Istituto di Istruzione Superiore e Medi di Barcellona Pozzo di Gotto. Sempre nella città del Longano, la campanella suonerà invece domani 7 settembre per l'Istituto di Istruzione Superiore Ferrari e per le classi seconde, quarte e quinte dell'Istituto Tecnico-Economico e Tecnologico Fermi, mentre per le classi prime e terze le lezioni inizieranno l'11 settembre, così pure per tutte le classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Copernico. La stessa data è stata fissata anche per gli istituti comprensivi di Gioiosa Marea, Patti, Brolo, Capodorlando e nella scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo Cesareo di Sant'Agata di Militello, che tuttavia anticiperà il 9 settembre l'inizio delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo grado. L'11 settembre segnerà inoltre l'avvio del nuovo anno scolastico, fra gli altri, per gli alunni degli istituti di istruzione superiore Piccolo e Merendino di Capodorlando e Borghese Faranda di Patti e delle prime classi dell'Istituto Tecnico e Tecnologico Tommasi di Dampelusa di Sant'Agata di Militello. Il 12 settembre toccherà poi ai loro compagni delle seconde classi e il 13 settembre a tutti gli altri.